09 tv sicula web television la tv on demand su www.09.tv ben trovati amici e amiche di 09 tv con il tradizionale appuntamento volto ad approfondire eventi iniziative manifestazioni personaggi che caratterizzano il nostro territorio in questo periodo e che sono per noi anche occasione proprio di approfondimento perché vanno diffuse le manifestazioni che più richiamano anche i turisti come è il caso di quello che sta avvenendo attraverso l'infiorata che in questi giorni porta a noto così tanta gente e porta anche tanti eventi perché presso lo studio barnum è presente una installazione realizzata curata da una stilista che è qui accanto a me alfina fisicaro che ho il piacere di presentarvi e che abbiamo noi la gioia di ospitare presso gli studi di 09 tv perché è appunto lei che ha realizzato questa installazione di cosa si tratta al fine sì io ho realizzato appunto l'installazione lo studio di vincenzo medico lo studio barnum si tratta di un abito rafia che si ispira alla nuova collezione bride del 2015 che presenterò a milano dal 23 al 26 maggio in occasione di appunto sposa italia e questo abito alfina prima di essere presentato allo studio barnum ha avuto già la possibilità di essere esposto e visto in altri momenti sì sì in occasione proprio la scorsa settimana in occasione di un'altra mostra presso notart gallery a piazza san giuseppe a siracusa è stato esposto lì e quindi che riscontro ha avuto è un riscontro positivo è piaciuto è piaciuto parecchio anche soprattutto per la tipologia del tessuto utilizzato perché non è il solito pizzo ma è una composizione di filati e quindi è un abito forte d'impatto come è nata quest'idea da parte tua è nata innanzitutto dalla della mia terra diciamo perché la nuova collezione bride del 2015 si ispira ai fiori alla natura e soprattutto trapele un richiamo siciliano il richiamo dell'essenza siciliana e quindi cerco di portare avanti questa idea della mia della mia terra ragione per cui sono tornata da roma e comunque ho aperto il mio atelier a siracusa in questa fantastica cittadina e noi riteniamo e ti ringraziamo insomma di essere stata presente qui in studio e ovviamente in questo tuo percorso che di grande interesse oltre evidentemente che nel tuo ambito professionale anche per quello che il contributo che attraverso le tue opere tu dai anche alla vivacità culturale del nostro territorio agli eventi alle manifestazioni che accolgono iniziative come in questo caso quella che viene collocata all'interno dell'infiorata e per questa ragione anche in futuro la disponibilità il desiderio insomma di 09 tv di ospitarti per altri momenti che tu ritieni possono essere particolarmente qualificanti nell'ambito proprio della crescita culturale del territorio della nostra provincia quindi un grazie ad al fine fisicaro ed un grazie a tutti gli amici le amiche che anche in questa occasione ci avete seguito con particolare interesse nella nostra volontà di approfondire temi e personaggi che riteniamo possono essere veramente di interesse per voi per il nostro territorio grazie ancora zero no tv sicuro web television sicuro web television grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.